Coronavirus, con l'aumento dei contagi in tutta la provincia, si pensa a un rafforzamento dell'offerta vaccinale. Ad oggi i punti dove è possibile ricevere la quarta dose nel territorio sono situati a Feltre, Agordo e Tai. In prefettura un tavolo con ULS, provincia e sindaci ha consentito di individuare un altro sito in comune di Belluno che potrebbe fungere da hub vaccinale. Le trattative con i proprietari sono in corso e tra qualche giorno se ne conoscerà l'esito, il tutto per aderire con precisione alle linee di indirizzo proposte dal generale Petroni dell'Unità Operativa Nazionale. Anche e soprattutto in vista dell'autunno, dove accanto alle vaccinazioni antinfluenzali tradizionali ci saranno le vaccinazioni estese ad una platea più ampia, quindi la riunione mirava proprio a individuare un'altra struttura ed è emersa una ipotesi che posso definire già concreta, individuata dall'amministrazione del capoluogo. Si tratta di una struttura privata, non pubblica, sarà poi approntata utilizzando tutto il materiale che è stato comprato, donato da Luxottica. E nella giornata di martedì Palazzo dei Rettori ha ospitato un altro importante incontro, si è trattato della cabina di regia sul nuovo centro di coordinamento soccorsi, al momento ospitato presso il 14esimo elinucleo dei carabinieri all'aeroporto di Belluno, 800.000 euro sono pronti a essere investiti sulla nuova struttura di proprietà demaniale situata in via Coldaren. Abbiamo iniziato a discutere del progetto, quindi con i progettisti incaricati e subito il tavolo ha suggerito un approfondimento tecnico che si svolgerà la prossima settimana per definire nel dettaglio la parte impiantistica in un progetto che sia nel giro di qualche anno finito e utilizzabile, completo non ancora ma utilizzabile quindi al 100%, da ampliare con uno schema modulare negli anni a venire.